Buonasera a tutti, come sapete Capodorlanda è uno dei comuni che il 5 giugno prossimo rinnoverà i propri vertici amministrativi, si concludono così i due mandati consecutivi del sindaco Enzo Sindoni che stasera abbiamo ospite nei nostri studi. Buonasera, grazie di essere con noi. Due mandati consecutivi, quattro complessivi, quelli del sindaco Enzo Sindoni che se non ho fatto male i conti è forse il sindaco più longevo di Capodorlando, 19 anni complessivi di sindacatura, vorrei sapere intanto qual è il suo stato d'animo al momento. Sicuramente combattuto, consapevole di completare un percorso importantissimo che mi onora, del quale voglio veramente ringraziare Dio e i miei concittadini che me l'hanno permesso. E' anche un po' malinconico, non ho nessuna vergogna a rappresentare il mio dispiacere per smettere di fare una cosa che mi piace tantissimo, che ho amato fare, che ho fatto ogni giorno col massimo del mio impegno, al massimo delle mie capacità. Ma anche consapevole che questo sia assolutamente giusto, convinto come sono che la normativa abbia una sua razionalità e una sua logica. Mi spiace solo che questa normativa sia applicata soltanto a poche cariche istituzionali e non a più come invece sarebbe probabilmente più legittimo. E' chiaro che magari è difficile condensare un po' tutta l'attività, tutto il bilancio di questi anni, ma c'è una cosa, un risultato che le piace di più ricordare? Sicuramente la risposta più scontata potrebbe essere quella del porto, magari avremo modo più in là di parlarne. Diciamo che però c'è qualcosa di immateriale che mi piace più di tutto di sottolineare. Io non credo che esista nel 2016 un orlandino che non sia orgoglioso di essere di Capodorlando, che non abbia avuto il piacere di sentire un turista, un visitatore, un amico di un paese vicino dire Capodorlando è un bel paese, a Capodorlando si vive bene. Questa è la cosa che mi rende più orgoglioso e più felice unitamente alla consapevolezza che i cittadini di Capodorlando hanno in questi lunghi anni dei miei mandati amministrativi, assunto la consapevolezza che non esiste favore, privilegio in virtù dell'appartenenza politica o dell'amicizia, ma che esiste confronto, diritti, critiche, ma sempre l'assunzione di responsabilità da parte di chi li ha immodestamente guidati. Queste sono le due cose che, dimenticando, o per meglio dire, mettendo per un attimo di lato il porto, le tante realizzazioni pratiche, mi rende felice. Era quella famosa rivoluzione gentile che ricordiamo del 94, liberi di essere e non di appartenere, che è stato un po' il filo conduttore della sua attività amministrativa. Assolutamente sì, anche qui, se mi consente due parole in più, ricordo quando nel 94 mi si diceva o mi si accusava della impossibilità di poter amministrare senza legami politici, senza appartenenze, senza che, avendo amici a Palermo o a Roma, il paese potesse trarre dei benefici. Oggi, dopo oltre vent'anni, mi accorgo che il civismo, l'appartenenza al territorio, l'essere e non appunto l'avere una casacca, sia invece il tema sul quale tutti cercano di incontrarsi. In questo Capodorlando è stata antesignana e questo merito storico, insieme a tutti i consiglieri comunali e gli assessori che hanno amministrato in questi anni, credo di potermelo ascrivere, unitamente al limite di non avere saputo, e questo è altrettanto evidente, andare oltre, spostare in avanti la trincea politica della rappresentanza che Capodorlando offre. Ma se fino alla metà degli anni 90 l'assenza di una rappresentatività di un orlandino a livelli istituzionali più elevati era forse la conseguenza di un vassallaggio, di una dipendenza, di una politica piramidale che in quel tempo imperava, e non voglio conciò giudicarla, anche se io ne sono sempre stato avverso, ho avuto anche i suoi benefici, i suoi privilegi, anche al Capodorlando sicuramente si sarà seguito quello che era un andazzo di quegli anni. Ed è di tutta evidenza di come invece nei comuni vicini, ci sono tanti esempi, l'onorevole Laccoto, l'onorevole Germanalo, l'onorevole Grasso, il senatore Mancuso, abbiano portato avanti questa trincea politica di rappresentanza del territorio. Non è stato un non esserci riuscito, ma è stato senz'altro non avere queste qualità umane, questa propensione forse, ecco questo io devo dirlo, all'appartenenza o al compromesso, ma credo che di ogni persona vada preso tutto ciò che egli rappresenta, e di me rappresento anche questo mio assoluto orgoglio di dire, rappresentare Capodorlando è già un onore talmente alto che non può mai essere mediato. Mi permette infine di mettere, forse in maniera un po' originale, questa posizione, questo percorso, a fianco di un altro esempio che per me è più che simbolico. In oltre vent'anni non ho mai concesso una cittadinanza onoraria e l'ho fatto perché non ho ritenuto questo strumento, uno strumento per creare consenso, per ammiccare, per sottolineare meriti altrui, ma per una considerazione molto semplice. Secondo me essere cittadini di Capodorlando è un onore immenso, è un regalo che Dio ci ha dato. Ritengo il mio paese il paese più bello del mondo e lo penso davvero. E credo che nessuno abbia un merito talmente grande da avere questo onore per qualcosa che ha fatto. Lo avrei fatto e lo farei per qualcuno che avesse fatto qualcosa per Capodorlando. Per il resto, grande merito a chi ha compiuto opere, a chi è stato insegnato di questa onoreficenza altrove. Ma dico questo soltanto per dire che per me essere cittadino di questo paese è una cosa straordinaria e quindi figuratevi che grande onore che io considero ed ho considerato essere sindaco di Capodorlando. E allora il porto, sindaco, ne parlavamo poco fa, ne abbiamo accennato poco fa. Probabilmente in un'epoca storica in cui è difficile reperire risorse pubbliche, se non quasi impossibile, l'ultimazione di quest'opera attesa da 40 anni ha forse un significato ancora superiore. Due aspetti, uno senz'altro, storico, l'opera è lì sotto gli occhi di tutti, è una grande opportunità e creerà dei benefici straordinari che valuteremo nei prossimi lustri, nei prossimi decenni e non li darà soltanto a Capodorlando. Le ragioni le conosciamo, è una via di collegamento, è un'apertura del territorio, ci rende l'ottava isola Eolia, visto che purtroppo l'arcipelago non ha un porto degno di questo nome, eleverà la richiesta di servizi in termini di qualità e di quantità e questo sarà volano di economia. L'altra considerazione sul completamento è che secondo me c'è stata anche una grande fortuna, al di là dei meriti che in quest'opera vanno ascritti a tanti, ai progettisti, alla nostra scommessa con l'ingegnere De Santis e il geometra Bilardo di accedere ai fondi per una prima progettazione che fu determinante per accedere al programma successivo, all'impresa privata che si è giudicata il project financing e anche a quelle che hanno partecipato senza giudicarselo ma che hanno creduto in quest'opera. Io credo che la fortuna sia stata quella di avere comunque per vent'anni in maniera pressoché continuativa la stessa guida politica, il che significa che noi abbiamo preso una strada. Io ho intrapreso un percorso che è arrivato alla conclusione, con la burocrazia della nostra nazione e della nostra regione di anni ne servono veramente tanti. Fra i meriti non voglio dimenticare quelli del grande Pino Librizi che scrisse la legge poi approvata dall'assemblea che sciolse gli ultimi nodi, ma la fortuna è stata quella di avere la stessa guida, intendo dire senza falsa modesti. Io ho preso un percorso e l'ho portato a conclusione, ma l'importante era che il percorso avesse il tempo per completarsi. Il cambio di più amministrazione avrebbe fatto sì che ognuno avrebbe scelto una strada diversa. Magari sarebbe esistita... Un po' come il successo a Sant'Aga. Sì, magari sarebbe esistita anche una strada migliore, io non lo so, nessuno lo potrà mai sapere, ma nessuno ha avuto il tempo che io ho avuto per raggiungere questo obiettivo. E anche questo credo sia un motivo di orgoglio, l'orgoglio del quale parlavo all'inizio, l'orgoglio degli orlandini, ma in questo caso mi permetto di dire l'orgoglio di un'intera provincia. perché nel 2016, e direi nel decennio che va dal 2005 al 2006 al 2016, dopo l'apertura del porto di Marina di Ragusa, questo è l'unico porto in Italia che viene realizzato ex novo, non ristrutturato, ampliato, ma realizzato ex novo. In un territorio così depresso, così marginale e con una politica così mediocre, ai vertici del livello regionale, purtroppo non solo da un anno, credo che sia un risultato che premia la fiducia che i cittadini hanno avuto in una guida politica continuativa. Però perché quest'opera sia effettivamente volando di sviluppo, occorre una gestione adeguata, oculata, che abbia giusti agganci anche con altre realtà italiane? Assolutamente, ma l'opera sta in piedi, ha un ottimo piano finanziario, è un ottimo programma di sviluppo. Provane sia che questa giudicazione è avvenuta nel 2009, mentre i lavori sono iniziati cinque anni dopo, cinque anni e mezzo dopo, e sono cinque anni e mezzo importanti, intendo dire nel 2009 la crisi la si percepiva sì e no. Il fatto che gli investitori abbiano comunque continuato questo percorso, io di questo sono grato alle tre aziende che compongono lati, dimostra che c'è sostenibilità nell'opera. Così come so, per quanto per via informale, che sono tanti i gruppi, anche stranieri, anche medio orientali, interessati a conoscere le modalità di gestione di quest'opera. E quindi sotto questo aspetto io credo molto nel fatto che la sostenibilità ci sia. Poi è fuori discussione. Gli anni di crisi della nautica nazionale sono stati legati ad interventi fiscali che hanno penalizzato l'Italia rispetto che so io alla Croazia, sul mare Adriatico, ma anche alla Spagna, sull'altro versante del Mediterraneo, e che hanno spinto molti armatori a proiettare fuori dai nostri confini armatori italiani le loro iniziative di immatricolazione e produzione. Ma io credo che oggi questa internazionalizzazione, che spero anche in ambito fiscale possa rapidamente raggiungere un optimum, ridia ossigeno alla nostra diportistica. Certo è divertente guardando indietro pensare alle polemiche per la barca, la piccola barca poteva entrare, la banchina, penso con un sorriso al grosso rischio che abbiamo corso con dei ricorsi per piccoli privilegi assunti nel corso degli anni che nessuno voleva mollare. E allora dico bene abbiamo fatto, bene ha fatto l'amministrazione a non cedere non tanto alla logica del compromesso ma alla logica del siano tranquilli e siamo andati anche incontro a scontri in apparenza duri ma in realtà mirati ad un unico interesse, il bene supremo del Paese e quindi la realizzazione del porto. Oggi è una realtà e mi fa sorridere anche chi in opposizione ci denigrava, sorrideva, ci chiedeva dove erano i camion quando l'opera sentava a partire e che oggi invece dice no il porto è merito anche nostro, diciamo che il porto è merito di tutti perché poi la memoria è corta e credo che poco continui meriti. Il porto c'è. Altra opera pubblica, delle famose incompiute che il suo signore ha dovuto, si è trovato e quella è la famosa ex casalbergo per anziani di Contrada Catute che adesso sembra finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Anche questa, anche quest'opera pubblica ha attraversato insomma diverse traversie ha dovuto, è accostata anche a sindone di perdita qualche pezzo della sua maggioranza a causa di questo prezzo che non è stato ritenuto o congro, le violente polemiche le ricordiamo tutti ma adesso come sempre ha l'interesse risultato? Assolutamente sì anche perché mi piace ricordare tre passaggi di questi anni. Il primo è quello dell'affidamento a un privato avvenuto all'inizio degli anni 2000 a cavallo della mia seconda amministrazione dell'insediamento di Massimo Carrello. La società di Siracusa che vinse allora con la quale raggiungemo questo accordo fu poi travolta dai debiti poveracci per meglio dire dai crediti non riscossi da parte del Comune di Catania e fu costretta a fallire. E poi ricordo anche la partecipazione a numerosi bandi di completamento, l'ultimo dei quali è una delle tante vergogne di questa regione, di questo governo regionale, ha visto restituire inutilizzati circa 11 milioni di euro per il completamento di strutture di questo tipo nonostante fra le altre ci fosse la nostra struttura presentata per il completamento pubblico. Ma alla fine io credo che ogni impedimento sia giovamento, mi sia concesso il sicilianismo, traduciamolo, magari in un italiano migliore, in ogni problema ci sia un'opportunità e l'opportunità è stata quella di capire e comprendere, di prendere coscienza come abbiamo fatto 3-4 anni fa con questa amministrazione che sarebbe stato impossibile completare l'opera con fondi pubblici. Quando si è creata l'opportunità derivante dall'offerta di un privato, tutti lo ricordano, del gruppo facente capo al imprenditore Miracola, al gruppo Erno, io ho ritenuto opportuno, considerato che mancavano pochi mesi, la conclusione del mandato rendere pubblico immediatamente questa opportunità e agire in maniera trasparente dicendo proviamo a raggiungere questo obiettivo. L'obiettivo è stato raggiunto anche se poi ad aggiudicarsi l'opera a dimostrazione dell'assoluta trasparenza e disinteresse con la quale ho sempre operato, è stato un altro gruppo di imprese del quale sono contento anche perché sono... E tra l'altro manterrà quella che dovrebbe essere la destinazione originaria. Infatti sono contento per due ragioni, uno perché mi auguro che in termini sociali, visto che c'è il vincolo dell'utilizzo per questa finalità sociosanitaria, mi auguro che al territorio non solo a Capodorlando possa servire. In secondo luogo dicevo perché comunque le imprese sono locali e fanno riferimento a imprenditori orlandini. Permettetemi anche di dire che è ancora più contento sono per la comunità perché abbiamo tramutato quella che era una struttura incompleta in una risorsa finanziaria importante. Il comune ha incassato oltre un milione di euro che ha permesso alla comunità di non dover ricorrere al mutuo per il completamento del bellissimo lungo padre Andrea Doria, mi permetto di dirlo, penso senza tema di smentire, che è come tutti possono vedere in fase di completamento. Adesso l'auspicio è che però il progetto si realizzi perché ogni struttura può essere volano di occupazione. Voglio anche qui rendere il tavolo sgombro da polemiche e scevro da insinuazioni, quella struttura ha un vincolo di destinazione per un numero di anni definito e per quel numero di anni non potrà che avere quella destinazione. Quindi che non ci si legga nulla di particolare, sento dire delle stupidaggini, ah in base a chi vince le elezioni potrà cambiare la destinazione d'uso, queste sono stupidaggini. Tutti, anche gli imprenditori, è giusto e normale che facciano politica, ma io tutelo gli imprenditori che hanno, che siano aggiudicati questa gara da ogni strumentalizzazione, così come non credo che una struttura incompleta possa essere strumento elettorale, come qualcuno vocifera, per promesse di posti di lavoro che ancora sono molto lontani dall'estere. Altrettanto dico, nessuno strumentalizza al contrario l'impegno di imprenditori che hanno fatto questo investimento, che non puntano a un cambio di amministrazione per cambiare la destinazione d'uso. Quello dice la legge e lo dice la gara. Certamente mi fa piacere avere tradotto una difficoltà in un'opportunità che è quella di dire, ma in questa campagna elettorale ci sarà qualche tema che va al di là del ciuffo d'erba, del buco o della panchina rotta per poter dire che Capodorlando dovrà avere un futuro, perché il problema di fondo è di guardare avanti e di pensare a cosa Capodorlando potrà avere in più. Credo che non sia difficile per nessuno riconoscere che le infrastrutture siano state realizzate e Capodorlando abbia avuto tante risposte. E piuttosto è preoccuparsi di cercare qualcosa di importante che non c'è, che non va in questo paese. Ci si preoccupi di avere idee nuove. Io conto molto sul fatto che i giovani possano dare un grande contributo al Capodorlando del domani perché hanno idee e vedono ciò che la politica tradizionale non ha saputo vedere. Mi piace in questo concludere, mi sono dilungato e mi scuso, ricordando che a Capodorlando abbiamo realizzato anche qualcosa che in Europa è all'avanguardia. Noi realizziamo idrogeno dall'energia solare. Questa è qualcosa la cui importanza verrà riconosciuta, ma veramente nei prossimi decenni, e che fa sì che leggere la notizia che a Tokyo ci sono 11 stazioni di questo tipo che rivoluzionano la città, mi inorgoglisce ancora di più dicendo bene in Italia, in Sicilia, a Capodorlando ce n'è una ed è la nostra. In Contrata Masseria. Lei poco fa ha accennato al lungomare, al completamento del lungomare Andrea Doria, almeno per quell'arredo, per completare insomma quell'arredo che era stato iniziato qualche anno fa nella parte diciamo che va dal Faro fino alla via 27 settembre, un poco più in là. Ci sono state polemiche anche riguardanti questo milione di euro destinato, qualcuno ha detto, a sostituire praticamente solo un muro del lungomare, a distruggere un muro e farne uno nuovo. Beh, lo potranno vedere, anzi lo possono già vedere tutti, ad opera ultimata. È come dire che dal Faro via San Giuseppe noi abbiamo soltanto tolto il muretto e realizzato la ringhiera. Ho messo le palme, ho realizzato una pista ciclabile, che è la più lunga dell'intera Sicilia, ho aver ampliato il marciapiede alla passeggiata, ho aver reso bello quello che un paese di mare deve avere bello, il lungomare che Capodorlando francamente non aveva. Riguardo al muro mi viene da sorridere, un lungomare che per l'insipienza dei tecnici della provincia che a metà degli anni 90 non volero accogliere l'invito di Mario Valenti ad abbassare a livello marciapiede quel muro per far sì che la passeggiata fosse già allargata ci costringe oggi a far sì perché il mare possa essere visto, sul lungomare il mare si vede, sembrava di passare in un posto nel quale c'era un muro in macchina, non si vedeva esattamente dove si fosse, sia stato un intervento anche legittimamente criticato. Io penso a una cosa, chi conosce Milano ricorda quello che era Piazza 24 Maggio, cinque anni fa o quello che era l'attuale quartiere Aulenti tre anni fa, oggi va e trova qualcosa di diverso, hanno demolito di tutto per realizzare qualcosa di molto più bello con i fondi dell'Expo e rendere la città più bella. Qui c'è anche chi ha avuto da dire sul fatto che un martello pneumatico o una ruspa butti a terra delle pietre del cemento armato, è naturale che chi ha voglia di criticare non solo ha sempre le legittimità ma trova sempre un motivo per farlo. Però a questi signori è sempre mancato qualcosa di importante, una proposta alternativa. Il lungomare di Capodorlando è già in buona parte e diventerà per intero entro il prossimo autunno, a mio giudizio, il chilometro e mezzo più bello d'Europa e se oggi ci fosse l'annunzio, dico sempre, ribattezzerebbe il chilometro più bello d'Italia come lui ha definito quello di Reggio Calabria. Noi ribattezzeremmo anche il nome del lungomare, forse. Ma questo non toccherà a me. In questi anni Sindone è stato spesso attaccato dalla minoranza, dall'opposizione consigliare per l'eccessivo uso delle ordinanze. Lui ha sempre risposto, lo faccio perché la città ha bisogno di risposte, ha bisogno di atti concreti. Rifarebbe tutte quelle ordinanze che ha firmato? Le firmerebbe di nuovo tutte? Sì, magari ne firmerei anche qualcuno in più, avendo visto come poi certi iter abbiano determinato una lungaggine nei lavori. Io sottolineo due cose, giusto per citare due esempi. Le ordinanze con le quali siamo intervenuti a mare, senza l'ordinanza, il ripascimento o la protezione della zona del depuratore o la ricostruzione di un tratto di spiaggia non può essere fatta perché non è competenza comunale. Ma dall'altro lato dico senza l'ordinanza che scavalca anche le strettoie legali ed economiche nelle quali le manovre finanziarie di questi anni ci hanno portato. Noi non avremmo piazza Trifilò, noi non avremmo completato l'arteria del cavalcavia che ci porta da via Alessandro Volta a via Consolare Antica. E per questo io con grande amarezza ho colto la denuncia, non tanto la denuncia politica, ma la denuncia che a mio carico è stata fatta dal consigliere Sanfilippo e dai suoi colleghi di gruppo nei miei confronti. Perché è incoerente, non perché non sia legittimo, non può fare ciò che vuole. Io non ho alcun timore, né mai l'ho avuto, né delle denunce politiche né delle denunce penali, convinto come sono che l'autorità giudicante sa poi sempre trovare il bandolo della Matassa. Che era la Corte dei Conti, giusto? E la Procura della Repubblica ha assunto un'iniziativa sulla scorta di questa denuncia fatta da questi signori. Però è incoerente col fatto che qualcuno poi in consiglio andava dicendo no, la politica noi la facciamo nelle sale, noi abbiamo amore per il Paese, non abbiamo dubbi sul fatto che Sindoni e la sua amministrazione non abbiano mai agito per interesse privato o personale. E allora se agiamo nell'interesse del Paese potrei contestare la legittimità, non la legalità di un atto, le procedure, non la convenienza e quindi questo mi è dispiaciuto, ma ripeto sta nell'ordine delle cose. Lo prendo, lo prendo con un sorriso senza volerci poi spendere tempo più di tanto. Noi nei giorni scorsi abbiamo anche ricevuto la comunicazione delle valutazioni da parte della protezione civile, della correttezza delle procedure seguite nella realizzazione dell'elipista a fronte di un articolato esposto, pesante esposto, formulato e firmato da uno dei candidati a sindaco. Sono scelte, certo credo che se avessi voluto in questi anni, avendo pagato, perché la gente sappia, oltre 9 milioni di euro di debiti fuori bilancio realizzati fra gli anni 70 e gli anni 90, avrei anche potuto cercare e trovare qualcosa per andare a fare le pulci alla legittimità dell'attività amministrativa di chi mi ha preceduto. Ma non l'ho mai fatto, perché sono sicuro che anche chi mi ha preceduto ha sempre agito nell'interesse del Paese e so, e nessuno meglio di me può sapere quanto sia difficile amministrare. Per cui il mio augurio e il mio auspicio è che comunque vadano le prossime elezioni ci sia una discriminante, entro la quale i contendenti, i protagonisti di umani sappiano mantenersi, un alveo dal quale non uscire. Noi abbiamo degli esempi tristi, anche in Paesi vicini. Io sono davvero rattristato nel vedere, non i contenuti, non mi competono, ma i toni e le modalità delle battaglie politiche che si svolgono a Santa Cata di Militello. Di fatto paralizzano lo sviluppo, il benessere, la qualità della vita di un Paese che ha potenzialità straordinarie. Ecco, io vorrei tanto un impegno da parte dei contendenti a far sì che domani comunque vada l'interesse di Capodorlando privilegi sul piccolo interesse di bandiera, anche perché domani non ci sarà un Sindoni parafulmine che per sue caratteristiche prerogative, incoscienza, chiamatela come volete, sia disposto ad assorbire tutto per conto di tutti. E quindi credo che il buonsenso e l'amore per il Paese non debba più essere dichiarato, come ho sentito fare tante volte anche in Consiglio Comunale, da chi poi, ripeto, firmava le denunce. A me piacerebbe che fosse nei fatti, con rispetto reciproco. Capodorlando lo merita, il Paese che Dio ci ha donato e che oggi viviamo lo merita. Vorrei che completasse il discorso sull'elipista. Ha detto che c'è stata la protezione civile. C'è stato un esposto dell'Avvocato Librizi, indirizzato a tanti indirizzi dalla Corte dei Conti, alla Protezione Civile Nazionale, alla Protezione Civile Regionale, nel quale si attribuivano chissà quali, o per meglio dire, sostanzialmente si diceva, è realizzata male, sono soldi sprecati, ci sono delle irregolarità, il mare se la porterà via domani. La Protezione Civile Regionale, se non sbaglio, risponde dicendo che per noi è stata eseguita legittimamente, gli altri profili li vedranno altri enti. Per nostro conto è la Protezione Civile, ad avere potestà sull'attribuzione degli interventi sulla territorialità. Sono stati loro ad aver scelto che si facesse a Capodorlando piuttosto che in un altro posto. Per noi è tutto a posto. Ma a me quello che interessa è che vedano i cittadini che è tutto a posto. Stiamo ultimando in queste settimane uno straordinario intervento, straordinario per la rilevanza e l'ampiezza, che riguarda l'area che va dal depuratore fino all'abitato. credo che lì ci sarà lo sviluppo della Capodorlando del 2020 e del 2030. Credo che lì, affiancata un'altra opera importante come la via dei Limoni, ci sia la garanzia della sicurezza di questo territorio. C'è anche un approdo turistico importante perché la viopista, affiancata alla lipista, ha un suo rilevante significato, senza nessun pericolo di aggressione dal mare. Allora, io non ho mai voluto rispondere, anche perché alcuni toni anche personali assunti da alcuni soggetti mi ha spinto a non interloquire, perché poi la polemica politica sarebbe stata anche piacevole. Ma io non posso fare polemica politica con chi nel corso di questi anni mi ha pubblicamente augurato arresti, malattie, TSO. Io ho una rassegna di porcherie scritte ai miei danni che brucerò volentieri il 6 giugno. Ma non dimentico perché vorrei che questo fosse monito per un dibattito politico più sereno e più tranquillo. Il fatto che su un ring ci sia un pugile che prende dei pugni in faccia senza cadere non significa che l'avversario abbia diritto a colpirlo anche quando il gong è suonato, anche quando sei fuori dal ring. E in sostanza è quello che è successo in questi anni nei miei confronti. E questa è la parte meno bella politicamente, ma forse più importante umanamente, perché mi ha fatto crescere in questi anni. E da questo parte anche quella che ritengo la più grande panzana, la più grande stupidaggine che viene veicolata nel corso di queste prime settimane di campagna elettorale, le contrade. Ma qualcuno ricorda che cos'erano le contrade di Capodorlando dieci o vent'anni fa? O dobbiamo snocciolare partendo da Via dei Limoni a Via del Mare, a Pissi, al Parco di Scafa, al porto di Capodorlando, agli acquedotti realizzati in ogni contrada, agli impianti sportivi alle scuole sistemati in ogni contrada, potrebbe andare avanti fino al termine della trasmissione. Questo grazie a Dio i cittadini lo ricordano. Quindi sentir dire ripartiamo dalle contrade per me è positivo se penso che qualcuno vuole far meglio e vuole far di più, perché si può sempre andare avanti e fare di più. Ma chi vuole far passare questo messaggio in negativo vorrei ricordare che io ho assunto la guida di un paese nel quale per tanti mesi in estate in tanti luoghi non c'era acqua, dove non c'erano le luci e dove per fare una partita a calcetto bisognava forse andare in spiaggia, visto che non esisteva neanche un piccolo. Sì, ma lei ha anticipato un po' la domanda che le sto facendo proprio sulle contrade, perché uno dei temi principali di questa campagna elettorale, portato avanti intanto da Salvatore Ribrizi già da qualche tempo, poi ripresa anche da Franco Ingrilli, si parla di contrade dimenticate, abbandonate, senza servizi, senza fognatura, con strade fatiscenti. Si disegna un quadro davvero preoccupante direi io, lei da sindaco chiaramente. Ma guardi, io da cittadino orlandino e da podista, mi piace correre, quindi sostanzialmente siccome vado molto piano, camminare nelle strade, invidierai tutti ad una passeggiata, avendo in mente ciò che si dice. Ripeto, una campagna elettorale come quella che viene sviluppata su una zona dove l'erba ad aprile non è ancora tagliata o su una panchina che non è stata sostituita, indica la grande valenza dell'azione amministrativa compiuta e soprattutto non toglie ciò che i cittadini hanno e che i cittadini desiderino e vogliano sempre qualcosa di più è importantissimo, è fondamentale, è rivoluzione gentile, perché significa non avere il cappello in mano quando si parla con chi ti amministra e significa non avere il cappello in mano della gratitudine eterna per qualcosa che hai avuto. Io credo che le tante fogne realizzate, le tante illuminazioni realizzate, le opere, ne citavo alcune, ma andate a pisti, andate dove c'è il campo sportivo oggi, andate dove c'è il sottopasso a scafa, potrei citarne decine di zone che oggi sono degne, dignitose, vivibili. Non deve essere un punto d'arrivo, è il mio punto d'arrivo e dovrebbe essere il punto di partenza per chi ha una nuova proposta. Chi si propone parlando in maniera così, confusionaria, generale di dissesti, disastri, dovrebbe portare dei dati, poi so anch'io che se andiamo in alcuni punti del territorio qualcosa che non va la abbiamo, so anch'io che se andiamo a San Gregorio c'è una struttura che da 12 anni noi cerchiamo di demolire, mi riferisco all'ex Movida, sul quale c'è una battaglia legale, perché comunque i proprietari cercano di difendere quella che è una cosa assolutamente insensata e spero che non ci riescano e spero che i candidati sindaco assumano l'impegno di continuare la mia battaglia legale, che proprio in queste ore raggiunge l'obiettivo di buttare a terra uno scempio nei pressi dello scoglio Garibaldi, dovrei dire scoglio 4 luglio, ma quello scoglio non ha cambiato nome, la consideri una battuta. Io so anche che c'è gente che parla dell'esigenza di valorizzare il sentiero Goletta, il sentiero Goletta è interrotto ed è interrotto da un privato che è proprio fra le persone che dicono di doverlo valorizzare, allora mettiamoci prima eticamente a posto e cerchiamo di dare un nome e un cognome alle cose che sono sempre disponibili, vogliamo parlare del sentiero Goletta? Se ne parli qui e si tirino fuori i nomi di chi, poi vedremo se legittimamente o meno, ostruiscono quel sentiero, non possiamo fare che le cose ci piacciono finché non toccano il nostro interesse e la nostra parte politica e questo è solo uno degli esempi. Tornando alle contrade, mi piace pensare a quello che oggi la contrada Amola, a quello che è il Castello Bastione che abbiamo rifatto noi, alla sicurezza che c'è a Piscittina con lo scatolare, alla sicurezza che Capodorlando ha su quel versante grazie alle strade realizzate e mi piace a questo legare anche il disagio che questo crea. Noi stiamo mettendo in sicurezza il centro del paese col cunettone di Muscale, opera figlia non solo dell'insufficienza del torrente che va sotto la via Pirandello e che raggiunge il mare, ma opera necessaria dopo che negli anni Ottanta, incontrata San Martino, l'edificazione non ha seguito criteri di rispetto delle necessarie vie dell'acqua, di un'eccessiva urbanizzazione e di una impermeabilizzazione che a discapito della sicurezza è stata lì realizzata. Questo crea, è normale, dei disagi, la via Pirandello è chiusa da qualche mese. C'è stata anche una piccola protesta dei commercianti. Legittima, ma grazie a Dio giunta al termine del loro disagio indiscusso, i commercianti anzitutto, ma anche i residenti, anche perché sotto l'incrocio di via Piave abbiamo trovato di tutto, tanti sottoservizi non autorizzati che vengono comunque inseriti e anche, mi piace dirlo, visto che qualcuno mi era accusato di essere visionario, la fibra ottica. A Capodorlando non c'è la fibra ottica, invece questa chiusura è venuta proprio per consentire alla fast web lo spostamento della fibra ottica, che come vedete c'è anche se ai cittadini non viene ancora resa fruibile. La stanno mettendo nuovamente comunque. Come dicevo, io non vorrei che questo secondo straccio sia invece una seconda fattura della stessa opera, ma sono sicuro che non sarà così, me lo auguro anche perché ora so che la Telecom ha acquisito una commessa di straordinaria rilevanza, c'è anche dei lavori nel centro di Capodorlando, che mi auguro di anche a noi cittadini del sud della provincia estrema la possibilità di usufruire di uno strumento che nel terzo millennio e nel mondo occidentale è già fruibile a centinaia di milioni di persone, ma non a noi. I precari, sindaco, qualche settimana fa sono entrati in stato di agitazione al Comune di Capodorlando, adesso lo sono praticamente in tutti i comuni della provincia, lei ha dovuto fronteggiare la protesta, è stato convocato dal prefetto e adesso abbiamo sentito che invece lei incalza sulla stabilizzazione, come la dobbiamo interpretare questa mossa? No, non è una mossa, tre aspetti in estrema sintesi, il percorso della stabilizzazione è avviato da tempo e dimostrerò perché, è oggi accelerato dalle norme che la finanziaria regionale contiene, quindi è un'assoluta coincidenza che ci sia questo stato di disagio che è indiscusso e questo nostro percorso. La legge finanziaria ci apre degli spazi, li rende quasi obbligatori ed è giusto che il Comune ci si lanci. Che il Comune di Capodorlando paghi lo scotto di avere, sono ormai 120, sono un po' scesi, un numero di precari eccessivamente elevato, è chiaro. Ma noi abbiamo fatto una scelta. La mia è stata quella di prendermi le reprimende della Corte dei Conti e gli strumentali attacchi di un'opposizione un po' sprovveduta che in Consiglio ci spingeva ad una macelleria sociale, cioè alla riduzione, perché oggi loro vogliono cavalcare una tigre, che ieri li vedeva invitarci a ridurre il numero dei precari. Sono troppi, sono tanti, ma non sono troppi e sa perché non sono troppi? Perché i dipendenti del Comune di Capodorlando si sono più che dimezzati in questi vent'anni e non sono stati sostituiti, perché il Sindaco Sindoni che non fa clientela e non ha bisogno di concorsi per accaparrarsi amicizie perché l'interesse dei cittadini orlandini, del Comune e della sua funzionalità e dei precari, strade che ci hanno permesso, lo sottolineo, di non aumentare le tasse da oltre dieci anni, mi ha fatto evitare, per esempio nel corso dell'anno 2014, di sostituire otto persone che sono andate in pensione, con un risparmio per il Comune che scavalca abbondantemente i 300 mila euro. Il risultato qual è stato? Che il Governo centrale ha tagliato i trasferimenti al Comune di 300 mila euro. Da qui la mia banale forse, lettera a Renzi, banale, non ho mai pensato che mi rispondesse, ma era un modo per dire i cittadini. Guardate, noi risparmiamo 300 e più mila euro e invece di poter utilizzare i soldi che non utilizzeremo per gli stipendi per andare incontro alla stabilizzazione, ai minori ritardi nel pagamento dei precari, ci vengono tolti, era un meccanismo che non andava. La finanziaria corregge in parte questa discrasia, però ci porta sempre a dire l'agitazione creata dai precari, che non si è mai tradotta nel lavoro, il Comune di Capo Rolando va avanti grazie al lavoro dei precari. La professionalità della stragrande maggioranza di questi ragazzi è fuori discussione. In percentuale forse sono più i precari che lavorano a pieno regime dei dipendenti comunali che lo fanno. Intendo dire i fannulloni ci sono ovunque, in ogni categoria, visto che loro non sono particolarmente ben visti. Ma quando a dicembre del 2013 noi abbiamo dovuto effettuare la delibera per la proroga che poteva avere un massimo di durata di tre anni, il nostro ragioniere e il nostro segretario generale hanno detto che non era possibile e hanno detto che avremmo potuto soltanto prolungare i contratti per quattro mesi, perché questo dicevano le risorse finanziarie, i parametri, perché poi non puoi scavaccare un certo limite di spesa, non puoi smettere di fare la mensa, pulire le strade, realizzare le opere per utilizzare quei soldi per gli stipendi. Quella è spesa corrente, quegli altri sono investimenti. E per poter avere l'assenso, dopo aver raggiunto quasi lo scontro fisico, io non avrei mai mollato su quella delibera, anche se non posso dire a un funzionario, men che meno a funzionari del calibro e della competenza, del dottor Gianni Matasso e del dottor Nino Colica, devi firmare un parere del quale non sei convinto. Si trovò un punto di incontro ed è quello, la delibera ru dice che noi possiamo stabilizzarli per tre anni, vincolando il pagamento degli stipendi ai trasferimenti regionali, anche perché ovviamente la cifra è rilevante. Questo che cosa determina? Determina che il ritardo della regione nel trasferire questi fondi si riflette sui tempi nei quali questi signori vengono pagati, ma lo dice il loro contratto, senza quella clausola quel contratto non sarebbe stato firmato. Oggi cosa dicono i precari? E cos'hanno detto quando è iniziato la loro protesta a maggio, se non sbaglio, ad aprile del 2014? Hanno detto no, ormai il fondo per le retribuzioni è unico, quindi noi dobbiamo essere pagati insieme ai dipendenti comunali, che vengono pagati ogni mese, grazie a Dio, il Capo d'Orlando non ci è messo a ritardo. Ma questo non risponde alla realtà dei fatti, provane sia che la regione aveva trovato nella prima stesura della finanziaria la copertura per il 2016 per i precari, per soli quattro mesi, che ha dovuto fare una norma specifica per salvare i precari degli enti in dissesto, cioè ha sezionato l'utilizzo di queste risorse. Alla luce di questo, lo sciopero del 2014 io lo ritengo in termini umani, per quanto sono legato a tanti di questi ragazzi che lavorano con me, che mi hanno permesso di ottenere i risultati che consegna la mia cittadinanza al termine del mio mandato, io l'ho ritenuta come un'offesa, ma non un'offesa, sono offeso in termini altezzosi, un'offesa emotiva, all'anima, perché io per questi ragazzi mi sono battuto non solo trovando e anticipando risorse che sarebbero state destinate magari al pagamento di altri fornitori, o al pagamento dello straordinario, alla reperibilità dei dipendenti ordinari che spesso si lamentano di questo. Io ho lavorato con loro e per loro anche per la loro professionalità e ci sono interi uffici oggi che sono nelle mani di questi ragazzi, senza quali il Comune non andrebbe avanti. Prova ne sia comunque che quando ad aprile del 2014 iniziò questa protesta perché erano sette le mensilità arretrate in virtù del ritardo dei trasferimenti regionali, oggi che i trasferimenti regionali sono ancora più indietro, le mensilità dei quali i nostri ragazzi sono indietro sono quattro, diventerebbero qui cinque nei primi giorni di maggio, l'auspicio è che il mese di dicembre, quindi il 2015, possa essere saldato anche nel prossimo mese. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco torniamo in studio per la parte conclusiva di questa intervista con il sindaco di Capodorlando, tra poco. Rieccoci in studio per la seconda parte, quella conclusiva con il sindaco di Capodorlando Enzo Sindoni, stiamo affrontando un po' tutti gli argomenti, anche se non è facile di questi anni di mandato amministrativo. Sindaco, stavo pensando io al prossimo sindaco, chiunque questo sia uno dei primi atti che sicuramente farà, perché credo che sia la prassi e questa sarà quella di controllare i bilanci, di controllare lo stato di cassa del Comune. In che stato di salute è il nostro Comune? Non troverà nessuna sorpresa, le casse del Comune sono in buone condizioni, hanno rispettato tutti i parametri che la norma impone. Capodorlando ha una grande capacità di autofinanziamento. Capodorlando, come prima ho avuto modo di dire, vede le tasse non salire da dieci anni, anzi ne sono scese tantissime, in virtù della costante lotta all'evasione fiscale che abbiamo realizzato in questi anni. E che qualcuno mi aveva sconsigliato di fare a metà degli anni 90, alla fine degli anni 90, quando primi in Sicilia e secondi in Italia ci siamo fidati a una società esterna per iniziare a incrociare le banche dati e trovare chi non pagava. Perché si diceva, ma era la fine del 97, un altro anno c'erano le elezioni. Ho detto, ma quanta gente non pagherà le tasse? Il 10%, il 20%. Ma pensiamo anzitutto all'80 che le paga, da un lato. E dall'altro lato pensiamo anche a far sì che chi paga non debba sentirsi uno stupido. Ed è per questo che io in 20 anni non ho mai, mai realizzato alcun condono, anche quando la norma lo consentiva. Anzi, per certi versi lo richiedeva. Le casse sono in buone condizioni anche perché prima di tantissimi altri comuni, o per meglio dire soltanto 41 comuni in Italia, fra i quali Capodorlando ha anticipato di un anno la redazione del bilancio secondo la nuova formulazione che assimila il bilancio dell'ente comune a quello di un'azienda e di un'impresa. E mi viene molto da ridere quando ho sentito fra le tante cretinaggini dette o lette, da qualcuno si diceva il comune ha 3 milioni, 5 milioni, 7 milioni di debiti. Ma probabilmente ne avrà anche di più. Nel senso che un'attività corrente fa sì che se tu fai un mutuo, come noi abbiamo realizzato dei mutui o degli interventi o il credito sportivo, per esempio per realizzare le tante opere realizzate sul territorio, fa sì che tu ti indebiti per un milione in 10 anni, in 20 anni. Se tu realizzi il lungomare Andrea Doria, in questo momento non so se presenterà la fattura l'azienda che sta realizzando il lavoro, avrà ricevuto 175 mila euro di pagamenti e magari ha una fattura per 400, quindi sono 225 milioni di debiti. È un fatto normale. E a fronte quanti sono i crediti che il comune ha? E quali sono i crediti che il comune ha? Quelli con i cittadini che devono pagare i tributi, quelli con i cittadini, mi piace sottolinearlo, che devono pagare l'acqua che non viene aumentata dal 1998, pensate un po', e che non manca. Ma sono anche i crediti verso lo Stato. Sono i crediti verso la Regione, ne parlavamo prima, che per quanto riguarda i precari, ha trasferito fondi fino al mese di aprile del 2014, del 2015. Noi abbiamo pagato gli stipendi fino a novembre del 2015, quindi quei 2 milioni risultano fra i debiti, ma risultano anche fra i crediti. Quindi le cose funzionano, vanno bene, provane sia che i servizi a Capodorlando continuano ad essere in gran parte gratuiti, segno di una qualità e di un bilancio sociale che farebbe invidia a tantissimi comuni del nord d'Italia. Capodorlando ha mantenuto un livello elevato, diciamo, anche riguardante le attività, chiamiamole ricreative, anche se impropriamente. Parlo del turismo, parlo delle iniziative culturali. E molto spesso, quando vado fuori paese, mi chiedono, ma Capodorlando come fa a permettersi di organizzare queste iniziative? Potrei rispondere in tanti modi. Io non so, non credo di essere mai stato particolarmente nel cuore dei miei colleghi sindaci o di molti miei colleghi sindaci per la mia maniera di parlare chiaro o di attaccare quella classe politica regionale e nazionale alla quale tanti colleghi fanno riferimento. Però lei mi fa la domanda e io devo rispondere. E lo faccio molto volentieri. Capodorlando se l'è potuto permettere per due ragioni. La prima è quella di avere sempre ritenuto queste iniziative degli investimenti nel territorio. Un paese che ha sbariate centinaia, quasi 700 attività commerciali e che ha un numero di bar e ristoranti, bed and breakfast, alberghi, che nessun altro comune nel circondario ha bisogno di gente perché l'economia cammini. Quindi per noi è sempre stato un investimento. Un investimento che si è tradotto nell'immediato e si è tradotto a medio termine nella creazione dell'immagine di un paese che voleva su sé l'attenzione perché chi viene a Capodorlando ci torna. Perché quanto sia bello vivere a Capodorlando lo sa solo chi ha la fortuna e il piacere di venire a vedere questo paese. Ma dall'altro l'ha fatto anche perché è molto attenta alla spesa. Non farò nomine riguardo all'attività dei miei colleghi sindaci, ma il kilowattore Capodorlando lo paga più del 60% in meno di almeno la metà dei comuni della provincia. Mi spiace dire che ci sono tante amministrazioni, dovrebbero essere più funzionari che gli amministratori ovviamente, attenti a verificare quali e quante clausole catastro i contratti degli anni 60, 70, 80 e se non stai attento ancora più adesso ci sia nelle utenze. Gli altri comuni non hanno elevato la tassa sui sottoservizi. Prima Capodorlando ne incassava 10-15 mila euro, oggi dai mostri, dai giganti delle comunicazioni, della fonia ne incassa più di 200. Ma a questo voglio aggiungere che Capodorlando in 20 anni non ha speso un solo euro per spese di trasferta. A Capodorlando le indennità sono state pagate al 50%, sono state utilizzate per finalità sociali senza per questo dover ricorrere a regolamenti a fondi ok. Credo che questo comune non abbia, anzi sono sicuro, non ha un auto blu dal 1994, non abbiamo dovuto aspettare, né gli scandali né al lupo al lupo, perché chi nel 1994 è andato a guidare questo paese sottoscritto veniva da una forma di protesta politica per la quale tutto doveva cambiare. La rivoluzione gentile la si doveva fare nei fatti. Perché durante l'amministrazione Sindoni nessuno ha mai avuto un telefono cellulare di servizio, nessun amministratore. Perché lavorando in questo modo e dicendo a chi ti chiede la sala consigliare il sabato mattina no, vai alla pinacoteca perché noi non paghiamo 4 ore di straordinario per un convegno di 10 persone che devono magari soltanto riunirsi hanno un altro spazio dignitoso per farlo, ha innescato una mentalità intorno a te che ha fatto sì che lo spreco non venisse più considerato. Allora sommiamo questo a quanto dicevo prima e cioè al fatto che noi inseguiamo gli evasori fiscali e aggiungiamo a questo l'intelligenza della programmazione. Quanti interventi in ambito fotovoltaico? La bolletta del comune di Capodorlando si è ridotta di oltre 800 mila euro, calcolando gli aumenti che ci sarebbero stati negli ultimi sei anni. Cosa abbiamo fatto con questi soldi? Abbiamo continuato a garantire i servizi e a permetterci anche quelle iniziative che vengono anche in parte rifinanziate dal fatto che questo incoraggia gli investimenti a Capodorlando, aprono le attività, si monetizzano i parcheggi, si prendono i suori pubblici, si pagano le tasse e questo rende il circuito virtuoso. A ciò, permettetemi di aggiungere, si somma, l'indiscussa qualità della classe commerciale orlandina e questo non è certo un merito dell'amministrazione che ha saputo traendo beneficio e creando queste condizioni, stimolare l'amministrazione ad andare avanti in questa direzione. Ha citato i parcheggi bulbo, però deve essere telegrafico, rifarebbe anche questo contratto? Eh, lo vorrei fare prima anche perché siamo arrivati i secondi in Europa, dopo San Pietroburgo prima di Nantes e Amsterdam. Nantes e Nitz, non vorrei sbagliare. Certamente, questo è un segno di civiltà, questa è la tutela di chi opera commercialmente al centro che ha la possibilità di un interscambio, di chi fruisce il centro perché trova parcheggio e infine un punto di equilibrio per quello della Capodorlando che doveva essere in un'estate, una Capodorlando dove le case avevano i parcheggi, qui tutto, anche le cantine sono diventate iniziative commerciali. Ma soprattutto mi chiedo, in quale posto, bello come Capodorlando non ce n'è, turistico ricettivo come Capodorlando lei va e non paga, lei sarà stato a San Vitolo Capo a pagare 13,50 euro per un giorno anche se si afferma un'ora, lei sarà stato a Rimini o a Riccione o da un'altra parte, sarà stato a Lugano, sarà stato a Santa Margherita Ligure, sarà stato sulla costiera amalfitana, ma il paese non è un parcheggio ed è uno strumento che a Capodorlando rendiamo a un costo minimo e con delle comodità straordinarie. Chi non conosce la possibilità di pagamento telefonico non comprende quanto sia comodo farlo, chi mette la monetina fa una cosa tradizionale, chi invece non vuole farlo profluire di uno dei circa 700 posti macchina realizzati negli ultimi dieci anni della mia amministrazione sul territorio e che sono spessissimo vuoti, perché anche a Ferragosto chi vuole andare a mare non vuole fare quel passaggio a piedi che dalla piazza a Buontempo, Palafantozzi, ti porta in 150 metri sulla spiaggia, non vuole farlo perché deve parcheggiare sulla spiaggia, quindi anche il 15 agosto ritroverà dei posti vuoti in quella piazza, perché non vogliamo camminare, ma vogliamo parcheggiare in spiaggia, eppure a Capodorlando, e questo credo che sia forse ormai un caso unico in Italia, nel 2016 trovi la spiaggia pulita tutti i giorni, trovi la doccia gratuita e se vuoi andarci a piedi non paghi nulla, se vuoi fermarti di davanti è giusto che tu dia un contributo a chi ti rende questi servizi. D'altro canto non credo che si possa pensare di abolire un introito comunale senza tagliare un servizio, allora chi contesta dovrebbe dire che, poi non commento altre proposte originali, in campagna elettorale si può dire di tutto, come chi dice mettiamo lo scontrino e non paghiamo, ma il mio barbiere ha fatto una cosa più semplice, ha una scheda sul suo telefono, quando arriva il suo cliente dice qual è il numero del tuo parcheggio, mentre gli fa la barba gli taglia i capelli e gli paga il parcheggio, se dovesse entrare lo scontrino dovrebbe fammi lo scontrino prima che mi sto facendo la barba, oppure sono a comprare dei vestiti, fammi uno scontrino e poi vedrò che cosa compro, quindi queste sono improvvisazioni che indichano anche un modo nel quale io inviterei i protagonisti della campagna elettorale ad essere un pochino più concreti e meno, sono un po' brutte copie, e meno raffazzonati, le proposte devono avere un principio e una cosa, un'attuabilità. In questi anni si rimproverà qualcosa o a qualche cosa, qualche recriminazione? Ma sarei presuntuoso se dicessi di no, faccio fatica a trovare un argomento anche perché vorrei dire alle persone alle quali, parto da un concetto, io so di avere dato ogni giorno il massimo di me, e questa è una condizione necessaria, mi sarei sputato in faccia, mi sarei dimesso se non avessi trovato e se non trovassi ancora anche in queste ultime settimane la voglia, l'energia e l'entusiasmo di andare al comune con la voglia di dare tutto me stesso. Quindi questo è il presupposto, questo per me che ispiro la mia vita alla filosofia del calabrese Rino Gattuso è una condizione necessaria per poter affrontare l'argomento. Sarei presuntuoso se dicessi di aspettare, di sapere come sarebbe andata a finire, alle persone alle quali da questa campagna elettorale in avanti farò gli auguri soltanto per il compleanno, considerato che San Giuda nel calendario non c'è. Devo dire che non mi hanno sorpreso, consapevole come sono di avere voluto coprire col mio aggiro facendo finta di non sentire, utilizzato anche la loro energia per garantire governabilità, da questo Paese. Quindi anche se questa non è la cosa più bella che io abbia fatto e che forse mi porta a dire questo è un compromesso con me stesso, perché alla fine hai riservato la stessa attenzione, la stessa disponibilità anche a chi ti ha accompagnato perché non poteva fare diversamente, non perché credesse pienamente nei tuoi valori. Questo sì potrei ascrivermelo e me lo ascrivo, così come forse in certi momenti avrei potuto essere anche meno duro, meno aspro nei confronti dei miei interlocutori, anche dei miei interlocutori istituzionali. Credo di avere dimostrato un concetto di vita che a Giuseppe Federica, i miei figli, ho sempre cercato di inculcare e cioè forte coi forti e debole coi deboli, nella misura in cui ho sempre detto mai il cappello in mano, mai ossequio a chi rappresenta autorità ma non garantisce autorevolezza. Io in questo ho sempre cercato di essere duro e questo forse avrebbe potuto essere ammorbidito, però se mi guardo dentro, trovo dentro di me lo stesso fuoco che avevo tanti anni fa, quando a 31 anni, forse senza rendermi conto dell'importanza di quello che succedeva, sono diventato sindaco di Capodorlando e a dispetto del cattivo funzionamento delle vostre telecamere che ogni volta che vengo qui mi fanno vedere meno capelli e anche un po' più bianchi, devo dire che se tornassi indietro penso il percorso che farei sarebbe lo stesso. Bene, allora ci possiamo salutare qui, credo che lei avrà modo, probabilmente in modo pubblico di salutare anche la comunità di Capodorlando. Sì, il 7 maggio, l'ultimo sabato prima che la campagna elettorale inizi, il 7 maggio alle 20, poi ovviamente cercherò di comunicare ai cittadini in ogni modo questo mio intervento che sarà un intervento di commiato più che di riepilogo perché anche qui si dice ah ma riesci a inaugurare il lungomare, riesci, io nastri non li ho mai, ho quasi mai tagliati, quando l'opera è pronta l'ho sempre resa fruibile, io non voglio farvi epiloghi, cataloghi, storie, io credo che questo sia davanti a tutti, voglio ringraziare, voglio ringraziare la gente di Capodorlando e non solo di Capodorlando, voglio ringraziare chi mi ha sopportato in tutti questi anni con il mio modo di essere, con le mie esuberanze, con i miei eccessi e ritengo giusto farlo in piazza, mettendo la mia faccia e rappresentando me stesso e vorrei concludere che ho iniziato ringraziando insieme a Dio che mi ha fatto arrivare fin qui tutti i cittadini, anche coloro i quali non mi hanno scelto in questi anni ma che mi hanno permesso di amministrare e sono stati i miei interlocutori. Grazie al Sindaco di Capodorlando Enzo Sindoni, grazie a voi che ci avete seguiti a casa e buona sera da tutti.